E veniamo adesso a parlarvi di Niccolò Ferrari corteggiatore di Nilufar Adati molto convinto purtroppo per lui. Molto convinto in quanto secondo me lui ci crede veramente di essere il preferito di Nilufar Adati. E io altrettanto sinceramente vorrei dirgli che Nilufar non lo vede proprio. Cioè non ci sta proprio sta storia. Vi giuro che ieri quando si sono baciati Nilufar aveva in faccia la classica espressione del tipo. E dai nuovi ti facciamo sta cosa del bacio che poi tengo a fa. E infatti il bacio è risultato di una freddezza mai vista prima. Ma ho notato sui di che in molte hanno dei dubbi anche su Niccolò Ferrari e su una vecchia affermazione fatta al Ricanza dove, di fatto diceva che per lui rimorchiare è uno sport. In questo senso Niccolò Ferrari vuole rassicurare tutti dicendo. Scrive Niccolò Ferrari su Instagram su chi insulta. Era una battuta quella del video di Ricanza? Ormai si cerca qualunque cosa per screditare, affondare e infangare. È una cosa che va avanti da settimane. Questo accanimento da parte di alcune tifoserie sta diventando davvero squallido e di cattivo gusto? Spesso le persone dimenticano che scrivono insulti, anche pesanti persone in carne ed ossa? Queste persone poi magari sono le erpime ad esse bullizzate a scuola o al lavoro soffrendo e standoci male e mi sopporta non sta facendo lo steso sono fiero di voi. Per carità dichiarazione bellissima è anche bellissima questa di Niccolò. Peccato che però la scelta non sarà lui.